Allora questa è la protesta non violenta di Ancona, la gente passeggia sulle strisce pedonali, blocca il traffico e i poliziotti non possono fare nulla perché appunto le persone stanno passeggiando, per cui è una forma di protesta non violenta ma allo stesso tempo efficace. Come vedete ci sono donne che solidarizzano anche con autisti e privati, stanno offrendo caffè, panini, dolci e quant'altro proprio per solidarizzare con i camionisti e con i privati cittadini. C'è apposta sul gazebo una bellissima bandiera greca, dono di un autista greco che solidarizza con noi. Come vedete il blocco c'è anche dall'altra parte. Ecco una passeggiata sulle strisce pedonali.